Musica Buonasera e benvenuti al TG 2000 delle 18 e 30 Le famiglie italiane soffrono pesantemente la crisi economica Oltre un milione di esse sono senza lavoro né pensione E in moltissime altre lavora un solo componente Una fotografia preoccupante scattata oggi dall'ISAT I dati con Caterina Dall'Oglio e poi con Barbara Masulli Sentiamo come i genitori raccontano il modo in cui riescono a far fronte A questa precaria situazione economica familiare Vediamo Senza occupazione e senza redditi da pensioni o da lavoro In Italia le famiglie che si trovano in questa situazione Sono esattamente 1.151.000 E in ognuno di questi nuclei ci possono essere o una o due persone prive di reddito Questo dato emerge dal report sulle famiglie e il mercato del lavoro dell'ISAT Ed è riferito all'anno scorso, il 2018 A ben guardare i dati si nota come in appena una coppia su due in Italia Entrambi i componenti abbiano un lavoro La metà delle coppie italiane quindi è senza una fonte di reddito Tra coppie e genitori singoli sono questi ultimi Che più spesso si trovano senza lavoro e senza pensione Le famiglie prive di reddito sono molto più diffuse nel mezzogiorno Per essere precisi dal Molise in giù C'è da dire però che secondo l'ISAT Questa tipologia familiare è andata crescendo Anche nelle regioni centrosettentrionali Ma al sud e nelle isole l'aumento è stato ancora più intenso Già nel 2004 la quota sfiorava il 10% E nel 2018 ha raggiunto il 15,5% L'ISTAT spiega infine che tra le coppie con figli In cui la madre ha un'età tra i 25 e i 64 anni Prevale ancora la tipologia con il solo padre occupato a tempo pieno Il dato è il 32,4% Mentre quella con entrambi i genitori che lavorano full time È al 27,5% Più di un milione di famiglie senza lavoro e senza pensione Sarà sempre peggio Perché anche quelli che lavorano Lavorano sempre a tempo determinato Con retribuzioni molto limitate L'attività qui come va? È sempre peggio Sempre peggio Si incassa sempre di meno Si lavora sempre di meno Basta pensare che magari solo le 2 Già stiamo chiudendo Cosa che in altri tempi di 2,5-2,40 Ancora stiamo servendo a recente C'è meno affluenza La disoccupazione è sempre esistita Tante volte il lavoro bisogna inventarselo Ha trovato il lavoro? Me lo so creato Come? Prendendo questa attività Più di un milione di famiglie non percepisce Nella pensione, nel reddito da lavoro Ci credo La situazione economica del paese Ma proprio in generale quella macroeconomica Non consente di lavorare un po' tutti Un dato preoccupante Oggettivamente preoccupante per tutti Come risparmia lei se lo fa? Mettendo da parte una piccola quota del mio reddito Ma molto piccola Perché le esigenze familiari I costi non consentono più grandi risparmi Tante senza pensione Tantissime E voi come cercate di risparmiare Per andare avanti? Beh, già che non andiamo dal parrucchiere Che ci lavoriamo Allora già lì risparmiamo E dobbiamo risparmiare sulla spesa C'è meno frequenza proprio per questo punto Perché la gente non ha più i soldi Lavoro io Ho un'attività propria Quanti componenti? Tre Se deve risparmiare dove sceglie di farlo? Qualche giorno o meno di vacanza I stipendi sono sempre gli stessi I ragazzi guadagnano poco Non fa il pieno per risparmiare? Ah sì, però non ce l'ho i soldi Per questo E poco fa c'è stato l'atteso faccia a faccia Tra Salvini e Di Maio Dopo le tensioni post-elettorali I due leader si sono incontrati Per dare un nuovo slancio all'azione del governo E per rispondere alla bocciatura di Bruxelles Sì, al dialogo lo dice anche Conte Che è dal Vietnam Mentre il Senato Arriva il via libera Allo sblocca Cantieri Come ci racconta Augusto Cantelmi Il governo deve andare avanti Tornano ad incontrarsi Per la prima volta Dopo le elezioni europee Salvini e Di Maio In un faccia a faccia Lontano dalle telecamere A Palazzo Chigi Circa un'ora di colloquio In un clima sereno Fanno sapere le fonti interne Di Lega e 5 Stelle Per fare il punto Sulle priorità da realizzare E per rispondere a Bruxelles Sul debito Verranno prese misure straordinarie Ma non L'aumento delle tasse Si legge In una nota congiunta Salvini e Di Maio Dicono sì Alla dialogo con l'Europa Ma l'Italia deve restare al centro All'incontro Assente Conte Che rientra in serata Dal viaggio in Vietnam Il Premier In più occasioni Ha ribadito La volontà di rispettare Le regole europee Dopo l'avvio Della procedura di infrazione Per debito eccessivo Il cui ammontare Per l'agenzia di rating Moody's È destinato ad aumentare Il reddito di cittadinanza E quota 100 Non è assolutamente All'ordine del giorno Anzi E provo a escludere Qualsiasi taglio Via libera del Senato Al decreto sblocca cantieri Tra le misure Il rilancio Del settore Dei contratti pubblici Semplificazione Per gli interventi Strutturali In zone sismiche Opposto terremoto E la sospensione Per due anni Del codice degli appalti Sblocca cantieri Criticato Dall'ANAC Aumenta Il rischio Corruzione Dice Raffaele Cantone Dopo giorni Trattative Salta l'attesa Fusione Tra Fiat Chrysler E Renault Sembrava fosse fatta Ma si è messo di mezzo Il governo di Parigi Ancora una volta La Francia Fa prevalere L'interesse nazionale Marco Burini Questo matrimonio Non sa da fare Per ora Forse mai Eppure conveniva Ad entrambe Fiat Chrysler E Renault Sarebbe nato Un gruppo automobilistico Da 33 miliardi di dollari Il terzo del mondo Addirittura il primo Se nella fusione Fosse entrata anche Nissan Sembra che il socio Giapponese di Renault Abbia fatto resistenza Anche se chi ha frenato Di più È stato il governo francese Che controlla Il 15% Della società Ha chiesto più tempo Per valutare la proposta Rinviando il voto finale Del consiglio d'amministrazione Magrardo le trattative Andassero avanti da tempo Finché FCA Si è ritirata Dicendo Che non vi sono Attualmente in Francia Le condizioni politiche Perché una simile fusione Proceda con successo Il ministro dell'economia Lemaire Ieri l'aveva detto Chiaro e tondo Lo Stato sorveglia Con fermezza Gli interessi industriali Di Renault E della Francia Non è la prima volta Che l'interesse nazionale Dei cugini Le Francais d'abord Prima i francesi Stravolge i piani E' accaduto Confincantieri Che due anni fa Aveva messo gli occhi Sui cantieri di Saint-Nazaire Ma Macron aveva messo il veto Nazionalizzandoli E Air France Che ogni tanto Rispunta come salvatrice Di Alitalia Salvo sparire Quando si tratta Di arrivare al dunque Questa vicenda Dimostra che Quando la politica Cerca di intervenire Nelle vicende economiche Non sempre fa bene Ha detto il vicepremier Italiano Di Maio Ma anche in politica estera Vedi questione Libia Parigi e Roma Non ragionano certo Come alleati Altro che Europa Partirà a luglio La cassa integrazione ordinaria Per 13 settimane Per 1400 dipendenti Dello stabilimento siderurgico Di Taranto Arclor Mittal Italia Dopo l'incontro con l'azienda I sindacati hanno chiesto Al ministro dello sviluppo economico Di Maio Di far rispettare Gli impegni Che la stessa azienda Si è assunta Al momento dell'accordo In cui acquisiva l'ILVA Dall'amministrazione straordinaria Di Maio ha annunciato un tavolo Per la prossima settimana Al ministero E oggi sono arrivati Anche i dati Dello studio Sentieri Pubblicato dall'Associazione Italiana Di Epidemiologia Sull'incidenza dell'ILVA Sulla salute Dei Tarantini Ce lo racconta Letizia Davoli Di ILVA A Taranto Si muore Per tumore al polmone Per malattie Dell'apparato respiratorio Per patologie cardiache E nei bambini I casi aumentano In maniera preoccupante I dati arrivano Dal quinto rapporto Sentieri Studio epidemiologico Promosso dal ministero Della salute Sull'impatto sanitario Delle aree più inquinate Del paese 45 in tutto Per oltre 5 milioni Di persone Il sito dell'ILVA Che ha subito anche Un sequestro Per danni ambientali Nel 2012 E' oggetto di particolare E' oggetto di particolare attenzione Per lo scontro Tra politiche del lavoro Ambientali e sanitarie Che ne hanno segnato la storia E lo studio di oggi Non calmerà di certo Il dibattito Secondo gli epidemiologi Le prime vittime Dell'ILVA Sono i bambini Nei quali si osserva Un'incidenza di malformazioni congenite Sopra la media regionale Del 9% Soprattutto nei quartieri A ridosso del polo industriale Non solo Dai più piccoli Fini ai 29 anni Sono in aumento i tumori Con un'alta incidenza Di linfomi e sarcomi Mentre nei giovani Si registra un alto tasso Di tumori alla tiroide E sempre i tumori Secondo il rapporto Sono le prime cause di morte Tra gli adulti Senza distinzione Tra uomini e donne Cuore, polmoni Apparato digerente Nulla sfugge Agli inquinanti micidiali Delle acciaierie E anche se saranno necessari Ulteriori studi epidemiologici Dicono i ricercatori E' già evidente La necessità Di un intervento immediato Di tutela della salute Dei cittadini A partire dall'adozione Delle migliori tecnologie Disponibili Per il contenimento Delle emissioni industriali Sono stati condannati A tre mesi di carcere I genitori del bambino Di sette anni Di Cagli Nelle Marche Morto il 27 maggio Del 2017 All'ospedale di Ancona Per una otite Batterica bilaterale Che era stata curata Con l'omeopatia Lo ha deciso Con giudizio Abbreviato Il GUP Del capoluogo marchigiano Paola Moscaroli Per l'accusa Di concorso In omicidio Colposo aggravato I genitori Del piccolo Francesco Si erano affidati Alle cure Del medico Pesarese Massimiliano Mecozzi Anche lui imputato Specializzato in omeopatia Che aveva consigliato Prodotti omeopatici Invece degli antibiotici Per lenire l'ottite Del bambino Poi degenerata In una encefalite La guardia costiera libica Ha salvato 82 migranti Agrappati a un gommone Semisgonfio Che in acque Molto fredde A 60 miglia A largo Di Garabulli A nord est di Tripoli Tutti i naufraghi Sono stati poi Trasferiti al centro Di accoglienza Di Gansur Nel rapporto Del soccorso Viene sottolineato Come il salvataggio Sia stato Particolarmente difficile Per via del tempo Trascorso in acqua Dai migranti E per il fatto Che abbiano dovuto Aspettare 5 ore A bordo Della moto vedetta Prima di poter trovare Un'altra imbarcazione Che li potesse riportare A terra E la questione Dell'immigrazione È entrata anche Nelle elezioni Danesi Hanno vinto I socialdemocratici Ma con una campagna Elettorale In cui hanno proposto Agli elettori Una linea durissima Nei confronti Dei migranti Marco Bergamaschi Cambio di rotta In Danimarca Dopo la vittoria Delle elezioni Del centro-sinistra In particolare Dei socialdemocratici Ma in virtù Di una durissima linea Antimigranti E il crollo Dei consensi Dell'attuale governo La coalizione guidata Dai socialdemocratici Di Matteo e Frederiksen Ha infatti I battuti Liberali conservatori Del primo ministro Lars Rasmussen Che ha ammesso La sconfitta E si è dimesso Rispettati dunque Exit poll E sondaggi Che indicavano Un ritorno Al governo Della sinistra Che ottiene Quasi il 26% Dei voti E 96G Su 179 L'estrema destra Guidata da Christian Tulesen Dal Che aveva sostenuto Ufficiosamente Rasmussen Si ritrova Con i voti Dimezzati Perché ha perso L'egemonia Nella cruciata Contro gli immigrati Infatti I socialdemocratici Hanno vinto Anche per via Di un'annunciata Linea dura Proprio contro Rifugiati E richiedenti asilo Ma proprio Questa intransigente agenda Non esente Da forti critiche Potrebbe rendere Difficile Per la Frederiksen Formare un governo Con le altre forze Di sinistra Come i Verdi Che non condividono Appunto Una politica Restrittiva In materia Di immigrazione In Australia Si è in attesa Della sentenza Nel processo Di secondo grado Nei confronti Del cardinal Pell In carcere Dopo essere stato Condannato In primo grado A sei anni Per reati Di abusi Sui minori Gli avvocati Difensori Hanno definito Il verdetto Irragionevole Perché la giuria Non poteva essere Convinta Della colpevolezza Di Pell Solo sulla base Delle dichiarazioni Di una sola Delle vittime Il legale Dell'accusa Invece ha affermato Che l'unico Denunciante È stato Un testimone Convincente Il porcorato Sabato Compirà 78 anni Ha sempre Professato La sua Innocenza Adesso in Normandia La regione Nel nord Della Francia Di fronte Alle coste inglesi Dove da questa mattina Sono iniziate Le celebrazioni Per il 75esimo Anniversario Dello sbarco Delle truppe Alleate Pierluigi Vito È un enorme sacrario La Normandia I cimiteri Che ospitano I resti Delle migliaia Di caduti Di 75 anni fa Si succedono Di paese in paese In questa giornata Di memoria I veterani Sono accorsi In Francia Dal Regno Unito Dagli Stati Uniti Dal Canada Dall'Australia Alla cattedrale Di Bayeux Sono stati letti Ricordi E recitate preghiere Papa Francesco Ha mandato Il vescovo locale Un suo messaggio Con la riconoscenza Per quanti diedero La vita Per la libertà E la pace E con l'invita A operare Per un mondo Senza conflitti Il presidente francese Macron Celebra il D-Day Di prima mattina Con Theresa May Alla sua ultima uscita Da Premier britannica Quindi con il presidente Americano Trump Parlano ai combattenti Di un tempo E alla gente Che oggi Si è radunata Sulle spiagge segnate Metro per metro Dal sacrificio Di tante vite Spezzate Dalla follia Della guerra Le vite che hanno dato I sacrifici Che hanno fatto Non hanno vinto Solo una battaglia Non hanno vinto Solo una guerra Chi combatte qui Ha vinto Il futuro Di una nazione Ha vinto La sopravvivenza Della nostra civiltà Abbiamo fatto Ciò che andava fatto È il fido rosso Nelle parole commosse Di chi sopravvisse A quella carneficina E a loro Si rivolge In inglese Macron Sappiamo Di cosa siamo In debito Con voi Veterani Della nostra libertà A nome della mia nazione Posso solo dirvi Grazie E qualche giorno fa Il 4 di giugno Abbiamo festeggiato Anche i 75 anni Della liberazione Di Roma Con l'ingresso In città Degli americani Del generale Clark Ad aiutare alleati E partigiani Un giovane agente segreto Sardo L'appuntato Delle fiamme gialle Bacchisio Mastino La sua storia Nel servizio Di Vincenzo Grienti La vita per l'Italia Non solo un motto Ma un impegno Preso da un gruppo Di uomini Decise a liberare La penisola Dal nazifascismo Dopo l'8 settembre Del 1943 Tra questi Bacchisio Mastinu Classe 1909 Sardo di Bolotana Un finanziere Che decide Di rischiare La sua vita E quella Della sua famiglia Per diventare Un agente segreto A servizio Dell'Italia libera Bacchisio Fiancheggia I partigiani Con pie atti Di sabotaggio Fornisce Importanti informazioni Come si legge Da questo certificato Affimma Del maresciallo inglese Harold Alexander Capo delle truppe Alleate Nel Mediterraneo Centrale Tra febbraio E marzo Del 44 Il partigiano Con le fiamme gialle Viene notato Da Giorgio A nome di battaglia Di Aminta Migliari Qui ritratto In uno Dei suoi numerosi Travestimenti E' un giovane Di Gozzano Che organizza il SIP Il servizio informazione Patrioti Nel 45 Questo servizio segreto Cambia nome E diventa SIPNI Servizio informazioni Militari Nord Italia Con 354 Agenti effettivi Tra questi Anche Bacchisio Mastinu Come si legge Nei documenti Custoditi Presso l'archivio storico Della Guardia di Finanza Una storia Quella del finanziere Sardo Raccolta in un libro Da Gerardo Severino Per conoscere Le vicende Di un eroe Del quotidiano Che senza clamore Contribuì Alla libertà Dell'Italia Coltivare le vocazioni Non vuole dire Cercare nuovi soci Francesco incontra In Vaticano I responsabili Della pastorale Vocazionale In Europa E a braccio Rivolge parole Di incoraggiamento E indicazioni concrete Per lavorare Con i giovani Paolo Fucili Lavorare per le vocazioni Dio faccia loro Capire qual è la strada Nella vita E il linguaggio Degli adulti Francesco avverte ancora A volte è speranto Per loro Non capiscono Né si può andare avanti Più coi preconcetti O l'impostazione puramente Numerose persone Raggiungono il Papa Ed egli anche attraverso I suoi collaboratori Raggiunge tanta gente E adesso andiamo a Lourdes Perché il Papa Ha nominato un suo delegato Per la cura dei pellegrini Il servizio è di Francesco Durante Sfilano lentamente Sotto la grotta Delle apparizioni Toccano la roccia Accendono candele Attingono l'acqua E sostano in preghiera Contemplano in silenzio La Vergine Affidando a lei Le proprie fragilità Le inquietudini Le malattie E le sofferenze Ogni anno Sono centinaia di migliaia I pellegrini Che visitano Il santuario di Lourdes Ai piedi Dei Pirenei francesi Dove nel 1858 Maria apparve Alla piccola Bernadette Tra loro soprattutto malati Disabili Assistenti e volontari Proprio per offrire ai fedeli Una più intensa cura Pastorale e spirituale Papa Francesco Ha nominato un delegato Per il santuario di Lourdes Monsignor Antoine Herouard Vescovo ausiliare di Lille Che ricoprirà l'incarico Ad nutum sancte sedis Cioè a discrezione Della santa sede Non si tratta quindi Di una nomina A tempo indeterminato Come quella conferita Invece al delegato Per il santuario di Međugorje L'arcivescovo polacco Enric Oser In entrambi i casi Tuttavia La sollecitudine del pontefice Mira a promuovere Sempre più La devozione popolare In questi santuari Accentuando il primato Spirituale Rispetto alla tentazione Di badare troppo All'aspetto gestionale Finanziario Come ha spiegato Andrea Tornielli Direttore editoriale Della comunicazione vaticana La lettera papale È stata resa pubblica Oggi dall'arcivescovo Rino Fisichella Presidente del pontificio Consiglio Per la nuova evangelizzazione Il di Castero Che da due anni Ha ricevuto da Francesco L'incarico di valorizzare La pastorale Dei santuari Sabato 8 giugno Alle 12.32 Debutta Su Radio Vaticana Il nuovo spazio Settimanale di News In latino Di 5 minuti Diffuso anche in podcast Su Vatican News Nasce dalla collaborazione Con l'ufficio Lettere Latine Della segreteria Di Stato Ma ci racconta tutto Nicola Ferrante Laudetur Iesus Christus Da sabato prossimo La Radio Vaticana Parla anche in latino Al via il nuovo spazio Informativo Sull'attività del Papa E della Santa Sede Nella lingua Che chi è più avanti Con gli anni Ricorda con un pizzico Di nostalgia E che affascina Ancora i giovani Di licei e università Ci siamo resi conto Che la lingua latina Per la Chiesa È ancora La lingua ufficiale Ma ci sono università Scuole Studenti Che la studiano E che anche cercano Di parlarla E dunque È uno sguardo Con lo sguardo Rivolto al futuro Che vogliamo fare Anche uno spazio Nelle news Che proprio Vedrà come il latino Viene applicato Nella traduzione Dei nuovi termini Il tutto In maniera molto leggera Decisiva la collaborazione Con l'ufficio Lettere Latine Della segreteria di Stato Dove i sette esperti Guidati da Monsignor Turek Parlano in latino Anche tra loro I am scripsi Unam vullam Novi episcopi Bene Bene Fecisti Bene Benefecisti E tu Policarpe Comodo te Abe sodie E goptime Abeo Crediamo che sia bello Che ogni settimana Ci possa essere un podcast Un testo Che poi sarà anche tradotto Dove uno potrà vedere Come il latino Può essere usato Anche per esprimere Notizie Del calcio femminile In grande crescita Come ci racconta Federico Plotti Comincia domani Edizioni dei campionati La FIFA World Cup E questa sera E questa sera E questa sera Il poste di Luciano Piscaglia Che ha incontrato i ragazzi Del Sermig Riuniti a Bergamo Per una grande festa Ma anche un'occasione Per lanciare Concreti progetti Di solidarietà Al termine Attenti al lupo Con Giuseppe Caporaso Io vi saluto E vi auguro Una buona serata Grazie a tutti